Tonfo interno del campo basso contro il Pineto che batte il Rosso Blu 3 a 0, gol realizzati entro i primi 38 minuti di gioco del primo tempo, tripletta del centrocampista originario di San Donà di Piave, Jacopo Fortunato. La netta sconfitta aggrava la crisi di risultati dei Rosso Blu sul banco degli imputati, tra le altre colpe probabilmente la guida tecnica di Mandragora, ma anche il gruppo di giocatori, alcuni dei quali apparsi privi di mordente. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori, arbitra Robilotta di Sala con Silina. Due occasioni nel volgere di poco, la prima con Allocca che va alla conclusione con il sinistro e al quinto quando la palla viene intercettata sulla linea di porta da Tommasini che consegna un corner ai lupi. Dalla bandierina da Dalt per la buona girata ancora di Improta che trova però l'esterno rete all'undicesimo in verticale da Danucci, sempre Improta che gira non troppo pulito, blocca Fargione. Il Pineto si scuote intorno al ventesimo, prima con il tiro di Campolone deviato in angolo da Allocca e poi con il conseguente corner da cui nasce il gol abruzzese. Si tuffa Fortunato che viene dalle retrovie e trova il bersaglio grosso, ospiti in vantaggio nel primo vero affondo ma il Campobasso non vuole starci. Al ventunesimo cross di Cogliati, testa di prepotenza di Merio con gran risposta di Fargione in angolo. La reazione campobassana c'è ma deve misurarsi pure con la bravura dell'uno ospite. Al ventiseiesimo abile a murare un tiro forte di Tommasini. Il Campobasso non smette di attaccare, al ventinovesimo dal fondo crossa Cogliati, la palla è spazzata dagli azzurri. Arriva Merio che calcia alto da 16 metri, pungenti gli ospiti anche se al trentaduesimo di fatto l'assistman diventa sposito che serve Tommasini. Questi apre un corridoio a Ciarcelluti bloccato solo dall'impatto con il legno. È solo il preludio al gol del raddoppio che arriva al trentaquattresimo con Fortunato che porta palla per più di venti metri, conclude e segna. 2-0 per il Pineto, il Campobasso sparisce dal campo e le cose peggiorano. Al trentasettesimo a Locca atterra Campolone ed è un calcio di rigore che appare fuori discussione. Dal dischetto si corona il più bello dei sogni per Fortunato che mette a segno una tripletta in 38 minuti di gioco. Selvapiana inizia a fischiare e disappunto espresso anche al rientro in campo per l'intervallo. Mandragoro effettua due cambi dall'inizio del secondo tempo in campo Spinelli e Giacobbe al posto di Palmieri e Tommasini. Dopo due minuti calcia da fermo D'Adalt, torre di Di Pierri, sotto rete arriva Mereo che calcia fuori ma era anche in fuori gioco. Un minuto dopo Selvapiana chiede il calcio di rigore, testa di D'Adalt e deviazione in corner di massa. Vogliono il braccio e Rosso Blu ma Robilotta non ravvede irregolarità. Il Campobasso ha poca confidenza con il gol, la riprova al quinto calcio di D'Adalt, arriva Cogliati che manda in curva un buon pallone. Mandragora fa entrare anche Diop al posto di Danucci mentre al diciassettesimo carica il destro ancora Fortunato, stavolta senza cogliere la porta. Il Campobasso è totalmente fuori dalla gara mentre il Pineto di Amaolo gioca sul velluto. Nei Rosso Blu fuori D'Adalt dentro Morra al momento dell'uscita scambio di battute fra il giocatore argentino e qualcuno della tribuna. Mentre al trentatresimo Ciarcelluti se ne va indisturbato verso la porta ma incontra la parata a terra disposito. Impassibili in panchina Mandragora e Minadeo mentre dalla curva intonano il coro Se volete giochiamo noi. Al trentarovesimo il tiro di Giacobbe fa davvero il solletico al portiere ospite. Ultimo cambio ininfluente del tecnico di casa dentro Antonelli fuori Merio e il neo entrato che calcia con il sinistro al quarantatresimo respinta di Fargione. I giocatori Rosso Blu danno l'impressione di essere in campo solo per onore di firma. Non succede davvero nulla. Al triplice fischio la Nord intona Corri di disapprovazione verso la squadra che abbozza un timido saluto. La classifica precipita e la squadra dà pochissimi segnali di vita. A fine partita la società indice il silenzio stampa. Merito al Pineto di Amaolo che vince in maniera ineccepibile e stacca in classifica proprio il Rosso Blu. Grazie.